Questa può sicuramente per definizione essere la peggiore pistola presente in Borderlands 3, per un semplice motivo, non può letteralmente uccidere i nemici. Quindi, la potrete trovare sconfiggendo Rackman a Carnivora indicato qui sulla mappa con una stellina bianca. Ma cosa fa? E perché ho detto che non può uccidere nonostante i nemici abbia colpito fino ad ora? Sono effettivamente morti? Quindi, questa pistola, così come il boss da cui può essere ottenuta, è un easter egg di Batman. Quindi, Rackman è letteralmente Batman e Night Flyer è sempre un riferimento a Batman. Il punto è che Batman non uccide e quindi questa pistola farà la stessa cosa. Se un nemico viene colpito da questa pistola, il danno di questa pistola, non quello aggiuntivo da magari scudo, granata, consacrazione, eccetera, ma solo quello di questa pistola, non può ridurlo sotto uno di vita. Quindi, tutto quello che lo può eliminare sono magari effetti di stato e altre cose che vengono aggiunte dal resto della mia build. Ma la pistola in sé, se la prendete su un personaggio senza abilità, senza nulla, non può eliminare i nemici. Il danno è anche relativamente penoso. Se andiamo a vedere rispetto alla trickshot, che vi ho mostrato giusto qualche tempo fa, vedete che è tre volte inferiore, quindi non può uccidere. Non ha dei danni enormi da giustificare il fatto che non può uccidere. E l'altra particolarità è che è semi-automatica, ma quando saltate diventa automatica. Appunto perché Batman è in aria, eccetera, eccetera, eccetera. Conviene utilizzarla? Se avete una build che può sfruttarla al meglio, perché no? Vedete che alla fine sto riuscendo a farci cose. Se invece non avete una build che può aggiungere dei danni elementali o dei danni bonus che possono andare a eliminare i nemici, allora non ne vedo l'utilità, sinceramente mi sembra uno spreco. In quel caso vi consiglio invece di usare questa pistola qui, che sicuramente è molto molto più forte.